Bene, bentrovati su questo nuovo video e ancora una volta ci troviamo davanti a una lavatrice, una lavatrice della marca Beko, che non si avvia a causa dell'interruttore dello sportello. Andiamo a vedere come ripararla. Di norma questo modello di lavatrice, quando rileva che lo sportellino è chiuso, mostra sul display un piccolo lucchettino. In questo caso non c'è il lucchettino, non ci sono errori e non si avvia la lavatrice. L'interruttore si trova all'interno della scocca precisamente a questo punto. Possiamo accedere all'interruttore smontando il tampagno superiore, il quale è fissato da queste due viti. L'interruttore si trova sotto la copertura di plastica rossa. Perfetto, non ci resta che staccare queste due viti. Per avere la certezza tecnica che l'interruttore è difettato, andiamo a misurare con il multimetro sui ponticelli dell'interruttore. Chiudiamo manualmente l'interruttore e come possiamo vedere sullo spinotto 1 e 2 abbiamo una certa resistenza causata dalla bobina. Essendo l'interruttore chiuso, sul contatto 2 e 3 dovremmo avere continuità. Perciò come vediamo il multimetro non segna continuità e questa è una dimostrazione che l'interruttore è rotto. Ecco, di norma non ci sarebbe stato alcun bisogno, ma giusto per curiosità ho smontato l'interruttore e come vediamo ci sono parti di plastica completamente bruciate. Coordinato l'interruttore dell'azienda Metalflex ZV466, perciò adesso posso continuare con la sostituzione dell'interruttore. Non resta che rimontare il resto dei componenti e il gioco è fatto. Dopo aver rimontato tutto possiamo fare la prova del 9. Come vediamo con lo sportello aperto la lavatrice non si avvia, perciò chiudiamo lo sportello e vediamo che sul display appare il lucchettino che vi ho detto all'inizio, ciò che indica che la lavatrice ha riconosciuto che lo sportello è chiuso. Bene, la lavatrice si è avviata, lo sportello durante il lavaggio non si apre, non rimane che fermare il processo di lavaggio e provare se lo sportello si apre. Bene, lo sportello si apre, questo indica che è andato tutto a buon termine. Spero che il contenuto di questo video sia stato costruttivo e interessante, al prossimo video.